buongiorno e buon fine buongiorno e buon fine settimana a tutti oggi voglio parlarvi di delle matite marco raffiné matite colorate prese su amazon non ricordo se due anni fa o se l'anno scorso allettata dal prezzo abbastanza conveniente 17 euro e 50 per 72 marite marite matite colorate è stato uno dei miei primi acquisti diciamo cartopazzosi tra virgolette per farlo proveremo insieme proveremo insieme su questo album da colorare antistress parigi segreta di zoe della scasa se il secondo album da colorare che prendo di questa autrice ne ho già ordinato un terzo approfittando di un'offerta su ebay mi davano un coupon di 10 euro quindi l'album new york street style una cosa del genere sempre album da colorare di zoe della scasa insomma da 14 euro e 43 compresa la spedizione dagli stati uniti addirittura mi ha costato 4 euro e 43 però dagli stati uniti impiegherà parecchio darmi ad arrivarmi poi ve lo farò vedere intanto vediamo questo vi faccio vedere anche qualche cosa che ho colorato con la mia bravura tra virgolette ci sono dei dei disegni ecco molto molto semplici insomma si spazia dai diciamo ecco questi sono dei 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 costumini cioè delle sì diciamo delle degli articoli di biancheria intima ecco per essere più precisi disegni di cosmetici vedete pennelli il phon tutto molto divertente è da colorare poi ci sono ovviamente dei panorami degli scorsi degli scorci di parigi non so fino a che punto siano veritieri comunque insomma non è che sono nemmeno poi io poi inizio poi ne inizio un altro sono sagittario non finisco ma niente comincio duemila cose caratteristiche e non ne finisco una caratteristica tipica del segno del sagittario qui ci sono dei fiorellini questi non è che questi disegni stile carta da parati non è che mi piacciono molto però insomma ogni tanto vado lì e quando sono un po incacchiata lo scuola pasta insomma insomma non è che sono un po dozzinali come disegni insomma alcuni alcuni no ecco questo per esempio da completare comunque e qui ci sono vedete gli insetti gli articoli per il cucito cioè comunque come album è carino no comunque ecco stavo stavo facendo questo questa pagina qui e vado subito al sodo così vi parlo di pregio e difetti di queste matite marco raffine di di tema ma ce le vuoi far vedere eccole qua intanto queste sono quelle che sto usando diciamo che sono quelle che sono un pochino più scriventi sono circa la metà le sfumature sono tantissime ci sono tantissime tonalità di colori c'è di tutto e di più proprio il problema di queste matite però cioè se no mi dimentico a dirlo che puzzano già puzzava la scatola di cartone quando mi è arrivata quando l'ho aperta e queste matite puzzano cioè continuano a puzzare già dopo da diverso tempo insomma che le sto che le sto utilizzando ancora puzzano e hanno questo fusto vedete metallico grigio chiaro e il colore è in cima e c'è anche il numero ogni matita un numero il colore non è che proprio corrisponda proprio al tratto comunque più o meno gli si avvicina però il fatto di avere il numerino ci consente poi di riconoscere i colori facendoci un uno schema con tutti i colori e numero abbinato insomma queste sono quelle dicevamo da scusate sento rumori strani saranno i latri che sepiano qua le matite colorate trovano qua dentro ecco queste qua ve le ho fatte vedere sono quelle che sto usando poi ho queste che le ho messe in elastico e l'ho per adesso accantonate perché sono vedete sono circa la metà forse un po meno della metà ma sono proprio non poco scriventi ma proprio pochissimo scriventi non so se si possa dire così scrivono poco e niente cioè proprio ti passa la fantasia di colorare per ora l'ho accantonate ma non le butto perché non butto niente e poi ottenuto che sono molto belli ovviamente lilla non messe nell'astuccio principale abbiamo il lilla abbiamo l'oro e l'argento 2 vedete 22 tipi di lilla insomma uno è un po più lavanda bel mio colore preferito che faccio accantonano ecco allora adesso andiamo a provare queste qui queste che sto usando diciamo così vi dico il pregio il difetto prendiamo un colore a caso questo qua un verde acqua un altro dei miei colori preferiti odori colori pastello andiamo a provare a colorare questo maglioncino intanto vi parlo del di pregio e difetti allora come scrivenza ci siamo ripeto è circa la metà hanno una buona scrivenza il tratto è buono la matita è leggera si impugna facilmente non stanca la mano insomma l'impugnatura e le mie riprese mobili qui che faccio venire mal di testa a tutti ecco questo giusto per dirvi che comunque come scrivenza ci siamo come pigmentazione alcune sono veramente molto pigmentate alcune bisogna calcare un di più ovviamente io non compro matite colorate professionali quelle che costano tantissimo ma prodotto perché non spendo soldi insomma per queste cose voglio dire non spendo tanti soldi ma soprattutto perché io non sono una professionista cioè mi limito a colorare questi disegni come puro spirito di divertimento per allontanare i cattivi pensieri e veramente come vi dicevo in un altro video i pensieri cattivi si allontanano arrivano solo bei pensieri e quando si colora quindi io lo consiglio continuano a consigliare a tutti di usare questo metodo e quindi niente insomma vi dicevo il problema è che puzzano cioè io ho difficoltà ad usarli per questo motivo nel senso proprio ma poi non si toglie potrei metterli in terrazza a fargli prendere aria ma voglio dire cioè non si può fare come si dice a roma comunque tutto sommato ecco la pigmentazione c'è la p e le la p la che le mine si non si spezzano molto facilmente quindi comunque anche abbastanza buone come resistenti come mine si temperano facilmente insomma non ho riscontrato grossi problemi dal punto di vista della scrivenza certo è che ci sono sicuramente matite colorate o pastelli migliori e però insomma io le vorrei sfruttare al limite del possibile voglio dire ormai l'ho comprata 72 colori voglio dire quindi insomma quindi il pregio è che comunque sono economiche che sono abbastanza pigmentate non tutte ma diciamo un po più della metà sono ben pigmentate tantissime tonalità e non potrebbe essere non potrebbe essere altrimenti perché 72 pezzi insomma voglia tonalità ci sono tutte le tonalità i carne per esempio quelli proprio vanno accantonati immediatamente perché non scrivono non scrivono affatto e altre comunque insomma per il prezzo che hanno forse magari una scatola da 48 forse è meglio perché comunque 48 ci sarebbero sempre tante tonalità e magari tante che non sono scriventi vengono escluse io questo non lo so dire comunque diciamo che un voto a queste matite sei e mezzo ecco cioè non le ricomprerei assolutamente ci sono sempre abbastanza economiche marche migliori che infatti vorrò provare adesso vediamo insomma in futuro comincerò a prendere a prendere qualcosina insomma di nuovo insomma il difetto maggiore che puzzano e che ecco parecchie non sono scriventi insomma non le ricomprerei ok vado a preparare il pranzo ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie ciao